Una ferita nel corpo dell'umanità contemporanea. Così Papa Francesco definisce la tratta delle persone in un tweet, nella giornata che oggi porta il mondo a riflettere su una piaga che coinvolge 40 milioni di persone nel mondo. Il pontefice, che da sempre segue con attenzione il problema, ringrazia tutti coloro che operano in favore delle vittime, ma ammette tanto rimane ancora da fare. La mercificazione delle persone riguarda soprattutto le donne, non solo quelle adulte, in complesso il 72% delle vittime. Alto anche il numero dei minori finiti nelle reti dei nuovi schiavisti, almeno il 30%, e anche in questo caso la maggioranza sono bambine, destinate in gran parte al mercato del sesso. I dati registrano proprio nello sfruttamento sessuale le percentuali più alte, anche se in molti sono destinati allo sfruttamento lavorativo, in gran parte nel terziario e nel settore agricolo. Proporzioni che si ripetono anche in Italia, delle 2.033 persone strappate al traffico di esseri umani, l'86% sono donne e il 7,9% minori. Numeri largamente sottostimati per la grande quantità di sommerso che il lockdown, seguito alla pandemia di coronavirus, ha incrementato. Un fenomeno drammatico su cui non bisogna abbassare la guardia e che impone, come ricorda oggi il sottosegretario del Dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale e il cardinale Cerni, una presa di coscienza dei comportamenti sociali che alimentano la domanda di sfruttamento.